Altre esercizi che possiamo fare sono in forma Flipple Buckets, li conoscete? Ok, e ciao! Cos'è il Buckets? Un piegamento sulle braccia, avanti i piedi, salta e spiega sulle braccia, e via, e via, e via, siamo pronti? Facciamo 5 quindi, sì, quindi, mani un posto una pallamenta normale è altrimenti impossibile usare la risulta, ok? Pronto? Ut, piegando, su, una Ut, piegando, up, su, su Questi esercizi sono interessanti perché se lo mettete anche come sfida diventa un esercizio di musculazione affiancato anche alla ricerca della velocità delle esecuzioni. Altre esercizi che possiamo fare, simili anche al floor leg, possiamo fare movimenti di torsione, ok, facciamo torsione, affondo e torsione, affondo e torsione, affondo e torsione, affondo la torsione apida nel ritorno e la decelerazione con l'addoginato, ritorno con l'acqua, blocco e torno su, blocco e torno su. Ottimo, ottimo. Ok? Esercizi per esempio per le spalle, sempre tendo la pugnatura come se dovesse pettinare, una pettinata. faccio rotteare, guarda, pettino, spingo indietro, passo e ritorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.